A proposito di vaccini, a partire da domani lunedì 17 maggio al via le prenotazioni anche in Abruzzo a partire da mezzogiorno per gli over 40 per coloro che sono nati dal 1972 al 1981 compreso. L'adesione alla campagna di vaccinazione per gli over 40 può essere espressa attraverso la piattaforma di poste italiane, gli sportelli ATM post amattattativi sul territorio regionale. La rete dei portalettere in servizio in Abruzzo è il numero verde 800 00 9966, si aggiunge anche un servizio di prenotazione tramite sms, bisogna inviare il proprio codice fiscale al numero 339 99 039 47 per essere ricontattati entro 72 ore e ultimare la procedura. Per le persone disabili e con fragilità e per la categoria dei caregiver invece la prenotazione avviene ancora tramite un servizio dedicato sulla piattaforma regionale. Dunque domani al via le prenotazioni per la dose dei vaccini per gli over 40 in Abruzzo. Per tutti i particolari e per come prenotarsi c'è il nostro sito internet www.reteotto.it